buongiorno amici del mulino ad arte con vero piacere partecipo a questa vostra bella iniziativa volta a tenere compagnia ai vostri spettatori ai vostri amici ai nostri spettatori anche in questo momento ho uno splendido ricordo di quella serata che abbiamo fatto a cumiana una serata nella quale veramente ci siamo parlati non ho parlato soltanto io dal palco ma abbiamo parlato tutti insieme di questi nostri tempi e allora anche in questo momento ci troviamo a poter parlare sia pur a distanza e a me piace ricordare un pezzo un monologo del film will hunting che secondo me è particolarmente pertinente in questo momento nel quale passando più tempo a casa magari abbiamo la possibilità di osservare più da vicino il nostro partner nostra moglie la nostra compagna e questo mi porta a fare la considerazione che faceva Robin Williams che interpretava la parte del terapeuta nel film quando spiegava al suo paziente che ognuno di noi ha delle imperfezioni e condividere le imperfezioni significa proprio consentire all'altro di entrare nella nostra intimità di entrare in quel nostro piccolo mondo e allora chissà in questi giorni quante volte osservando più da vicino la nostra compagna nostra moglie abbiamo avuto occasione di notare come magari non facevamo prima delle piccole imperfezioni ecco di fronte a quelle piccole imperfezioni pensiamo sempre che quelle rappresentano l'intimità che il concedersi di essere imperfetto di fronte a qualcuno significa che con quel qualcuno abbiamo intimità dice Robin Williams nel film ti tolgo ogni dubbio campione tu non sei perfetto e non lo è neanche lei quello che devi valutare quello che dobbiamo sempre guardare è se le nostre imperfezioni vadano bene insieme vi lascio con questo augurio con questo augurio di vedere in questi giorni confermato che le vostre imperfezioni vanno bene insieme ciao amici miei vi voglio bene e a presto